Diffondi Libro A Radio Incontro oggi presentiamo Corrado Polini che è l'editore della rivista Fantastico Nomi, Cose e Città. È una cosa molto interessante questa rivista e ce ne parla direttamente Corrado Polini. Benvenuto a Radio Incontro. Buongiorno a tutti e grazie mille di questo invito. Io direi innanzitutto di dire che questa rivista è stata ideata da Alberto Bebo Guidetti che è uno dei fondatori del gruppo musicale Lo Stato Sociale. È una rivista culturale, indipendente, fantastico. Ce ne vuole parlare? Sì, assolutamente. Bebo è uno dei due fondatori accompagnato da Ilenia Dornato e insieme qualche anno fa hanno pensato a questo progetto che poi è cominciato come una newsletter online quindi, che ha preso subito molto piede, è stata subito affermata e poi soltanto nell'ultimo anno invece, quando Polignania ha incontrato Bebo e Ilenia, ecco che c'è subito stata una fortissima sinergia, una fortissima intesa e da qui, ecco che fantastico, ha cominciato a diventare anche in formato cartaceo. Per ora ci sono i numeri 3, 4, 5 e prossimamente, insomma, un trimestrale usciranno i prossimi numeri e chissà che un giorno non recupereremo anche i primi. Perché l'avete chiamata un rallentatore in un tempo troppo rapido? Perché di fatto, allora, quello che ho appena detto è una parte del testo, c'è un'altra che dice che ce n'è una promessa, che il viaggio non sarà breve. Ecco, quindi diciamo che è proprio un momento di raccoglimento dello spazio e del tempo culturale che è necessario perché le cose vengano comprese, anche semplicemente. Oggigiorno è sempre più difficile mettere a fuoco le informazioni, mettere a fuoco ciò che si vede, ciò che si percepisce e anche a volte ciò che si cerca online, diciamo prevalentemente online. Mentre invece questa si proprio si posiziona come rivista di approfondimento, quindi di lettura, di raccoglimento. Non particolarmente lunga, sono un centinaio di pagine ogni numero, però l'importante per noi e per i redattori di Fantastico è proprio approfondire le cose, guardarle da un punto di vista e prendersi tempo. Ecco, questo per noi è molto 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 importante, anche perché in realtà è un codice diciamo epistemologico già della lettura stessa. Bisogna prendersi un po' di tempo per leggere. Vogliamo parlare del numero 5, quello appena uscito? Perché no? Contiene da quello che ho letto, 11 racconti, 7 interviste, 8 illustrazioni, 4 rubriche, 2 servizi fotografici, un cruciverba, un oroscopo e una playlist che penso sia stata redatta proprio dal fondatore dello Stato Sociale. Allora, io diciamo che tendo sempre a non voler fare troppi quelli che oggi vengono chiamati spoiler, in realtà più caldo si parla di anticipazioni. In copertina viene elencato giustamente l'indice di quello che contiene la rivista, tuttavia non c'è già subito un approfondimento, si sa quello che c'è dentro. E di conseguenza invito tutte le persone a prenderne visione, anche perché in questo mese per esempio il numero 3 è gratuito, è fornito per tutto quanto il mese gratuitamente tramite la newsletter, quindi vi consiglio di poterlo, di leggerlo perché ne vale veramente la pena. Il numero attuale ha diversi contenuti perché ogni numero in realtà ha un format leggermente diverso, quindi contenuti variabili, però che girano sempre intorno ad una fotografia nazionale della cultura, quindi come giustamente ha detto lei, set fotografici, interviste, rubriche, spesso si parla di libri, quindi ci sono recensioni, per esempio in questo numero qui c'è anche un allegato, un allegato di un manga, sempre prodotto da Polignani, scritto da Morte Bianca e disegnato da Marco Albiero. Quindi è proprio un contenuto variabile, ora mi perdonerà se non è troppo nello specifico, ma sì, ci sono tanti contenuti culturali variegati e differenziati tra loro che poi alla fine sinergicamente danno un'idea complessiva del numero attivo. In apertura c'è anche un doveroso omaggio a Franco Battiato. Sì, sì assolutamente. Non è la prima volta chiaramente che si tratta del maestro, chiaramente in questo caso qui anche alla luce del triste e doloroso l'ascito. Tant'è che addirittura anche durante il tour, perché poi è fantastico, è stato anche in tour durante quest'estate, in diverse date, in tutta Italia, e si è insomma colto il momento per dare un tributo, dare un pensiero, delle parole al maestro Battiato. Quindi sì, questo numero è un pochettino malinconico da un certo punto di vista, però in realtà da un altro si dona la gioia appunto della conoscenza lenta per l'appunto, che tra l'altro Battiato ha sempre ben esposto, sempre ben promosso, e quindi questo forse è il numero più centrato su questo tema. Vogliamo dare qualche indicazione, qualche informazione su Alberto Bebo Guidetti? Sì, tutti conosciamo comunque. Esatto, probabilmente il migliore sarebbe lui a poterlo dare. Quello che si può dire, oltre a quello che ha già detto lei, quindi che è un cofondatore della band Lo Stato Sociale, è con intellettuale a tutto tondo. Bebo è veramente una persona, lo potete anche tranquillamente conoscere tramite i suoi social, perché anche lì in maniera molto centellinata, però comunica, comunica fortemente, e comunica quello che per lui è giusto, come dire, il modo in cui secondo lui è giusto vedere anche il mondo oggi, il mondo italiano, il mondo politico, non inteso come partiti, ma inteso come attività sociale, e questo sicuramente è una visione che Polignani sposa completamente, nel senso che alla fine qualunque tipo di attività, anche la non attività, si rivela essere un'azione politica, un'azione che ha a che fare con tutti, con la collettività, e quindi è importante scegliere quale azione fare e quale azione non fare. Poi, giusta o sbagliata che sia, basta che lo sia per noi stessi, l'importante è esserne estremamente coscienti e che non vada a fare male a nessuno, ecco, questo è sicuramente importante, e Bebo, in prima persona, ha una visione molto molto forte di questi temi, che giustamente condivide in ogni occasione, quindi dalla band, alla rivista, a come produttore discografico, e chi più ne ha più la meta. Parliamo di Polignani Editore. Ok, allora, Polignani Editore è una realtà nata qualche anno fa, da me, di Corrado Poligni, e da Gaia Castaldello, che ha accompagnato in tutto questo percorso di creazione della casa editrice, che ora, tra l'altro, ha fatto un ulteriore passo avanti, ma si avranno notizie prossimamente. Per noi è cruciale l'importanza della difesa ambientale, quindi abbiamo inventato il formato Quart, per esempio, in cui le pagine non si sfogliano, ma si ruotano, fatto al 100% a mano, zero impatto ambientale, oppure adesso, con tutti i nostri formati a dorso, che produciamo internamente, c'è un efficientamento capaceo di produzione, tale per cui l'impatto è pressoché zero, quindi il 99% del libro è tranquillamente riciclabile. Quindi stiamo lavorando tantissimo per fare in modo che, essendo un'azienda che ha a che fare con materie prime, e materie prime anche delicate, facciamo delle scelte, dando a discorso di prima politiche, mirate, quindi non facciamo finta che i problemi debbano risolverli qualcun altro, ma si comincia dalle cose più piccole, per poi dopo risolvere quelle più grandi. E quindi anche questa rivista usufruisce di questa? Assolutamente sì, la rivista Fantastico è in realtà rilegata in raso, quindi è stampata su carta di alta grammatura, di alto pregio, e poi dopo è rilegata a mano in raso, e ogni numero ha un cordino di raso coordinato con la grafica di copertina, quindi il colore cambia in base al numero, e ora il numero 5 è colore corallo. Complimenti, davvero bellissimo, anche online però, vero? Allora, si trovano assolutamente online sul sito di polignani.com Ed è scaricabile? È scaricabile su ISU, acquistabile su ISU, infatti se andate su isu.com e cercate Polignani, dentro troverete ad oggi il numero 3 di Fantastico, ingratuitamente, e poi ci saranno le versioni cartace, sempre digitali, scusate, digitali, oppure appunto quella cartacea sul sito Polignani. Ricordiamolo, questa rivista si chiama Fantastico, Nomi, Cose e Città, è stata ideata da Alberto Bebo Guidetti, ed è edita da voi. Vogliamo dare qualche indirizzo social ulteriore? Allora, per qualunque tipo di aggiornamento, trovate tutto quanto sulle pagine social di qualunque natura, quindi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify di Polignani, e poi chiaramente sui social principali di Bebo, e la stessa pagina di Fantastico, punto esclamativo. Polignani, editore, fantastico. Grazie, grazie a Corrado Pollini per averci raccontato questa rivista, noi vi invitiamo ad andare a vederla, sul nostro sito, a comprarla sul vostro sito. Grazie, buona giornata, noi ci dedicheremo alla lettura di questa rivista. Grazie a tutti. Buona giornata, buon lavoro. Buongiorno, altrettanto. Diffondi Libro Questa rubrica è offerta da Diffondi Libro, servizi editoriali professionale. Diffondi Libro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni, infochioccioladiffondilibro.it oppure redazionichioccioladiffondilibro.it Diffondi Libro